Ok, questo è uno dei miei disegni preferiti tra tutti quelli fatti! Grandioso! Wow! Voglio vederlo! Non adesso! Devo aggiungere ancora una cosa! Dov'è il pennarello viola? È il mio colore preferito! Lo troverò! Dove sei? No, questo è verde! Oh, ecco il giallo! Ci sono molti colori qui! Controllo di qua! Ops! Wow! Un bel pasticcio! Se non ci fossero tante cose ovunque, sarebbe molto più facile trovare il pennarello viola! Vivi! Stai dicendo che noi adesso dobbiamo mettere a posto? No, non voglio fermarmi! Devo finire il mio disegno! Oh, mettere a posto non significa che smettiamo di giocare! Preparati! Anche tu! Partenza! Pulizie! Scommetto che finirò di pulire prima che tu finisca la canzone! Metti a posto, tutto quanto in ordine! Metti a posto, forza fallo insieme a me! Ups! Stavo dimenticando questa parte! Metti a posto, tutto quanto in ordine! Metti a posto, forza fallo insieme a me! Quasi finito! Devo cantare più veloce! Che bello metto a posto, lo faccio perché quando io metto a posto, ossiché tengo a te! Metti a posto, tutto quanto in ordine! Metti a posto, tutto quanto in ordine! Metti a posto, forza fallo insieme a me! Fatto! Wow, Vivi! Sono state le pulizie più veloci che abbia mai visto! E vedo anche il pennarello speciale! Davvero? Il pennarello viola! Metti a posto mi ha aiutata a trovarlo! Il colore viola mi ricorda qualcosa! Grazie per l'aiuto, Balm! Ora posso finire il mio disegno più bello di sempre! Ecco, fatto! È un bellissimo disegno del nostro meraviglioso parco! Con ogni cosa al suo posto! Oh, mi piace, Vivi! E ti voglio bene! E voglio bene anche a te! E te! Grazie a tutti